Bentornati al nostro appuntamento qui su Rete8. Anche se ne abbiamo parlato solo poche settimane fa, oggi parleremo di nuovo della prescrizione e della contribuzione ai dipendenti pubblici. Infatti c'è stata un'importante novità rispetto a quello che ci siamo detti nella scorsa puntata, per cui è importante puntualizzare. All'inizio del mese di dicembre, l'11 dicembre, eccola circolare 117, l'istituto ha differito la decorrenza delle indicazioni sulla prescrizione e la contribuzione pubblica dal 1 gennaio 2019 al 1 gennaio 2020, quindi un ulteriore anno. Quello che devo sottolineare però è che nessuna prescrizione ci sarà per i dipendenti pubblici relativamente ai loro diritti e ai loro contributi. L'effetto della prescrizione ha effetto solo nei confronti della pubblica amministrazione datore di lavoro. La posizione assicurativa si può sistemare anche dopo il 1 gennaio 2020. La differenza è che dal 1 gennaio 2020 la pubblica amministrazione non può effettuare versamenti mancanti, ma deve operare con un sistema diverso. Proprio in quest'ottica l'istituto ha lanciato negli ultimi anni l'operazione estratto conto. L'operazione estratto conto parte da una nuova campagna informativa ed è finalizzata a sistemare l'estratto conto per ottenere una posizione assicurativa completa che ci consenta di liquidare e definire nei giusti tempi le prestazioni dei dipendenti pubblici. Questo è molto importante e il meccanismo di funzionamento prevede un passaggio triplice. INPS, datore di lavoro pubblico e iscritto. L'iscritto è parte attiva perché verifica quella che è la sua posizione assicurativa, segnala all'istituto con una richiesta da fare sul sito che si chiama RVPA, richiesta variazione posizione assicurativa. L'istituto si attiva insieme al datore di lavoro pubblico per reperire tutti i dati e completare la posizione assicurativa e certificarla. Quindi, mentre l'istituto sta operando già con i datori di lavoro pubblici per sistemare la posizione assicurativa, lo stesso iscritto può andare a verificare ed effettuare, se ritiene, questa richiesta. Ripeto, anche dopo il primo gennaio 2020. Io vi ringrazio, approfitto di questa occasione per fare i migliori auguri di Buon Natale da parte della direzione regionale INPS e arrivederci alla prossima puntata.